proseguiamo another attack at greatest checkpoint grass team in effetti qualcuno si è suicidato si è bombardato proseguiamo dunque per facilitare ispezioni gli estremisti di Kolekian sono sospettati della bomba di ieri arrivano da Kolekian dobbiamo praticamente fargli un check per controllare che non portino bombe con sé ci sono delle regole nuove è possibile trovare delle armi ok mettiamolo via questo sempre qua proviamo ciao hello dunque è in visita un mese scade l'83 va bene femmina somiglia a lei ecco Kolekia quindi bisogna fargli lo scan bisogna fargli lo scan bisogna fargli lo scan come glielo faccio lo scan tutti i Kolekian devono essere Kolekia ok interna vai search foto foto sembra che la signora non abbia niente quindi direi che in visita un mese ok Roberta Zafari RPE 6Q BR 03V direi che la signora può passare prima in visita 12 settimane ok scade l'84 42.5 WGG 0 K X core coro nena coro nena gianna va bene arriva da da qua quindi nella colekia cerca sembra pulita in ehm aspetta no aspetta 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 zack zac no weapons lo sai che cosa era? Fai dalle palle Next Paper please Passa, transito Due giorni Scada 8307 Hampton Robert P8 F5 DLN XQG Due giorni, transita Federazione United Direi che Puoi passare Vediamo Questa è di qua Distretto di Lendiforma Lendiforma va bene 97 kg 470917 Scalm 831010 Quindi va bene Sterco BLM Ci assomiglia Direi che Puoi passare Ah, c'è scritto Allora Un anno per lavoro Rain Dolcev Ok Scalm 84 NXCPBP7U78 Un anno Ci assomiglia E' maschio Direi che può passare Per fare Per play Perché Visita Per Un mese Allora Scania 1984 va bene, MAL7S, Grad X3 va bene, un mese, fino all'82, 12, 22 va bene, Francois de Grise, ok, Colecchia, è Colecchia quindi assolutamente. Vai. Spugliate. Foto, 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 sembri, eh, contrabando. No, tu sai, tu sai, brutto coglione. Fur de bade, subito fur de bade. Next. Next. Visita per tre mesi, 12 settimane, 2LT10, GOV86, Shaddi Safari, scade in 83, 06, va bene, un maschio, ci assomiglia, Colecchia, devo fare. Vai. E... Controbando Vai vai Dai dai dai, ancora uno ce lo facciamo Lì, infemmina Mi spiace però, qua c'è scritto Ho sbagliato Liana Karatat, va bene, in transito, visita, scado 84 Femmina, vai Mi spiace signora, ma mi sa che non ce la faccio Lady Forma, sì Sa anche Andrea, scado 84 Femmina, ci assomiglia Andiamo a vedere una volata Lady Forma va bene Prego Buona Ammalati e affamati Merda Mio figlio è ammalato e affamato Ammalato e affamato Mio figlio è ammalato e affamato Claim and prove the border search of violent rights Vediamo Qual è che in un momento Sono stati additati Un diplomatico arriverà oggi Un diplomatico richiede soltanto un passaporto e un'autorizzazione diplomatica per entrare Ok Quindi D'accordo Cominciamo Diplomatico Brenovic Bronin 48R3Q GVAUG Sei maschio Ci assomigli Scade nell'83 Può andare di qua, di qua, di qua Il documento non ha scadenza Quindi prego Allora in visita per 8 settimane Sono due mesi, va bene Scade nell'83 7GDDT SNBJ7 Del Voschimical Va bene In visita direi che Poi Entrare Questo è sempre noi Questo entry ticket Non va più bene Perché non c'è più Scade nell'84 Scade nell'84 Stai Ah si No no Spiacente Tu non entri Saluti Aspetteremo Peppa please Questa è di qua Thomas Shaila Pesa 63 kg Scala 84 Vediamo se Il distretto Vescillo C'è Ehm Va bene Eccolo Perché è invalida Invalidi E E questo che è? Lo mettiamo qua Un paio di settimane Ok in transito QBR5 Q2CF 16 Scala 83 Chem Marjowska Va bene Direi che Aspetta Colleckian Ehm Gli facciamo un Testo Niente Come ho detto Perchè? Perchè? Ah merda Questa Questa è in transito Due giorni Ndq3k E Wshdll Lea Moracevska 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 Ok Federazione United In transito Quello va bene Direi che Puoi passare Cosa viene a fare? In transito Due settimane Republia Sd Hqv KK RM Republia Cos'è Republia? Republia Ok Ho fatto così Va bene Direi che Borac Già lì C'è Femmina Ok Puoi entrare E di qua DrexCorman Peso 80 kg Del Scade 84 Maschio Ci assomiglia Jenny Stora Jenny Stora Passport ISS Must Be Valid Ok Quindi in teoria questo E' valido Allora In transito Due giorni Scade 83 BB5 NH 9 KK Paolina Vosca Ci assomiglia Il timbro va bene Colecchia Mosca Paolina Vai Eccola cacca Merda Faffanculo Questo va in transito Due giorni Le maschie ci assomiglia Scade 82 11 11 Eh 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 Mi piace Saluti Sì 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 Mi piace Saluti